Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi è arrivata l'ufficialità di Jacopo Furlan al Catania che ovviamente è un portiere sostituito a Pisteri, che di sicuro partirà è un classe 90-93 e ha molta esperienza nella categoria Serie C e ha giocato con varie squadre, Catanzalo, Monopoli e Trapani Allora, secondo me è un portiere, un giocatore che ci serviva perché noi dobbiamo puntellare quest'anno dobbiamo fare una squadra, dobbiamo migliorare dobbiamo fare la difesa nuova, il portiere e poi due centrocampisti perché l'attacco è buono tranne facciamo partire a Marotte e facciamo tornare a uno o a un altro comunque è un giocatore che ci serviva spero che non farà come Pisteri tutte quelle cazzate vabbè che Pisteri qualche volta, qualche miracolo lo faceva però ci serve un portiere che dobbiamo avere fiducia in lui non dobbiamo preoccuparci di lui dobbiamo essere sicuri che è un portiere che merita di fare il titolare di giocare nel Catania spero che sia meglio di Pisteri secondo me secondo me sarà meglio di Pisteri e comunque è basta, tutto qui noi ci vediamo alla prossima con qualche altra notizia di calciomercato ciao a tutti